Sulle nostre montagne il carico di neve è notevole, le temperature sono in rialzo, il bollettino del Centro Nivo Meteo Arpa Lombardia di Bormio indica un pericolo valanghi in aumento su tutti i settori della provincia di Sondrio. Gli esperti mettono in guardia i frequentatori delle montagne, c'è il pericolo di distacco di slavine, di neve umida o bagnata alle quote medie e inferiori. E' vivo il ricordo di quanto accaduto domenica 24 gennaio sul Mortirolo, un ragazzo di soli 20 anni, residente a Stazzona, paesino dell'Alto Lago Comasco, quel giorno perse la vita mentre era in sella a una motoslitta, travolta da una slavina. Una tragedia che ha scosso profondamente i tanti amici, diversi valteinesi. Dopo un primo incontro svoltosi il 9 febbraio, il prefetto di sogno Salvatore Pasquariello questa settimana ha deciso di convocare un nuovo vertice dedicato all'utilizzo delle motoslitte. Dopo le determinazioni assunte dal Comitato Provinciale per l'Ordine alla sicurezza pubblica all'indomani della tragedia della morte di quel giovane proveniente da Stazzona e verificatasi sul Mortirolo. E' stato interessante l'intervento di tutti i componenti di questo tavolo, in particolare la federazione italiana moto, settore motoslitte, il CAI, il gruppo delle guide alpine, il dirigente scolastico, anche due rappresentanti delle amministrazioni comunali che hanno dato il loro contributo già in questa sede ma soprattutto nella formazione di gruppi che si riuniranno per affrontare tre aspetti. In agenda attività di educazione, formazione e sensibilizzazione degli utenti della montagna, in particolare dei giovani attraverso lezioni teorico-pratiche per far conoscere i dispositivi di autosoccorso e il loro impiego corretto. Per spiegare come leggere e interpretare i bollettini regionali sul rischio valanghe. La normativa generale, i regolamenti e l'aspetto culturale di formazione sia dei giovani tramite il dirigente scolastico e sia degli adulti tramite corsi di formazione che predisporranno i rappresentanti della federazione italiana moto.